presentati buonasera a tutti Francesco Jack Bertaiola hai mai lavorato nel mondo dello spettacolo? no però mi piacerebbe mi piacerebbe fare l'attore però se volete posso farvi una breve presentazione della scena rapida se ne avessi la possibilità cosa ti piacerebbe fare? buonasera a tutti signore e signori siamo qui alla Grande Mela e vogliamo presentarvi le nostre celebrity star webstar e abbiamo trovato i 12 migliori e adesso ve li presentiamo fai un appello al pubblico per farti votare oh ragazzi non scazzatevi se vi state scazzando datemi un like e bella